Dopo il boom di presenze a dicembre, ora dobbiamo lavorare per fare accoglienza nel migliore dei modi e mantenere un trend sempre positivo, lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione del nuovo sponsor del Teatro San Carlo. Queste grandi istituzioni culturali debbono essere sostenute dal pubblico, ma poi da un sostegno di grandi sponsor privati è ugualmente importante. Questa seconda parte va costruita ancora di più nel San Carlo, questo è un primo passo, dobbiamo fare ancora una strada lunga, però noi stiamo lavorando su tanti gruppi proprio perché noi vogliamo che questi riconoscano questo valore della nostra città e delle nostre istituzioni culturali e li sostengono in maniera significativa. Un momento importante che significa immagine positiva di Napoli, aggiunge. È chiaro che oggi, adesso, noi ci dobbiamo porre il tema di avere Napoli come una grande città turistica che ha flussi turistici durante tutto l'anno, che è una novità per quella che è Napoli. Questo richiede un piano di gestione del turismo, quindi con un'organizzazione diversa dei servizi, con una gestione diversa dell'accoglienza, quindi questa è la sfida dei prossimi mesi, quella di avere un sistema turistico più organizzato e pronto ad accogliere centinaia di migliaia di persone.